un sorriso vediamo il coperto che è arrivato al rifugio con i modelli Mimio, il Peller, la croce e nel fondo dipende di dove si vuole partito è quasi un beletto Sì 10 punti di penalità 10 punti di penalità 10 punti di penalità 10 punti di penalità Fai una manovra di avvicinamento alta e poi esci di nuovo senza stare basso, passi 10 metri e se arrivi con una virata impicchiata ovvio Fai una tentativa Fai una tentativa Fai una tentativa